bella a tutti ragazzi ben ritrovati in questo nuovissimo video scusate se sono di spalle ragazzi sono qui pronto per mostrarvi questo ultimissimo completo creato sempre da me ragazzi ringrazio davro per questo bellissimo completo però i vestiti l'ho scelti io ragazzi modestamente lui l'ha fatto uno diverso però stesso procedimento ragazzi come la volta scorsa che abbiamo fatto il video ora ragazzi il completo che andiamo a fare è sempre militare però un po diverso andiamo a fare un completo veramente bellissimo allora andate su felpe come al solito e andiamo a selezionare stavolta il completo come si chiama il la felpa blu scuro come vedete una volta fatto questo ragazzi andiamo su pantaloni e andiamo a selezionare i pantaloni cargo e andiamo a selezionare il cargo ghiaccio bellissimi ragazzi molto belli guardate qua come gli specchia una volta fatto questo ragazzi andiamo su cappelli e andiamo a selezionare il cappello della ltd la devo andare solo a cercare vediamo dov'è 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 eccolo qua ragazzi una volta fatto questo ragazzi andiamo su occhiali e mettiamo quelli da poligono e andiamo a scegliere gli occhiali blu eccoli qua una volta fatto questo ragazzi andiamo a salvare il completo ora tutto quello che dobbiamo fare ragazzi è andare ora al negozio di maschere eccoci qua ragazzi al negozio di maschere allora tutto quello che dobbiamo fare ragazzi è andare a scegliere il passamontagna montagna blu dici di lana blu allora dove sarà eccolo qua ragazzi una volta fatto questo ragazzi dobbiamo andare solo a salvare il completo ora tutto quello che dobbiamo fare qua ragazzi al telescopio come vedete andiamo a fare il glitch per mettere gli occhiali quindi semplicissimo sempre lo stesso procedimento ragazzi dobbiamo fare solo menu interazione correre e insomma andare a selezionare gli occhiali che avevamo prima ci vorrà un bel poco di trovarli ragazzi è giustamente un problema trovare un sacco di occhiali qua perché sono troppi quindi eccoli qua ragazzi tecnici blu una volta fatto questo ragazzi dobbiamo solo allontanarci e come vedete ci sono gli occhiali che abbiamo scelto col passamontagna ora andiamo di nuovo al negozio di maschere per salvare il completo e poi vi spiego come mettere il cappello eccoci qua ragazzi salvati una volta il completo come vi ho già detto tutto quello che dobbiamo fare ragazzi è questo procedimento non sbagliate ragazzi perché giustamente lo spiego solo una volta è semplicissimo poi alla fine quindi ora tutto quello che dobbiamo fare ragazzi è andare sul menu interazione e mettere prima di tutto il cappello quello che avevamo prima quello della ltd minuto soltanto ecco dove sarà questo dell'atomic non mi piace comunque non è questo eccolo qua ragazzi allora una volta fatto questo ragazzi abbiamo bisogno di una moto tutto qua ora questo è il procedimento che dovete fare ragazzi allora prima di tutto salite sulla moto e andiamo a mettere il cappello una volta messo il come si chiama come vedete c'è messo il casco abiti menu interazione mettete prima di tutto scendete dalla moto e selezioniamo subito il completo una volta fatto questo salite di nuovo sulla moto scendete e come vedete c'è messo il il cappello con maschera e e passa montagna come vedete ora tutto quello che dobbiamo fare ragazzi andare a scegliere i paracadute molto bello come completo ragazzi ora andiamo a prendere zaino ragazzi andiamo a scegliere il paracadute della usa solo un po' di pazienza vediamo dov'è dov'è quello dell'australia non ci sta male ragazzi poi potete mettere potete mettere qualsiasi paracadute ragazzi tutto giusto per abbinarlo quello israel bellissimo ragazzi niente vediamo vediamo e pure quello della nuova zealand è bello scozia niente ragazzi non c'è l'imbarazzo della scelta comunque eccolo qua ragazzi quello del dell'usa bellissimo ora aprite il menu interazione mettiamo soltanto i paracadute e mettiamo si ragazzi ecco qua ragazzi che dire questo veramente gli salta gli occhi questo completo poi ditemi voi nei commenti se vi piace o non vi piace ragazzi da qui toni rosa nera è tutto noi ci vediamo a un prossimo video spolliciate e passate nel link in descrizione e da qui toni rosa nera è tutto noi ci vediamo a un prossimo video ciao a tutti ragazzi a un prossimo video Grazie a tutti.